Auguri, buona Pasqua! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai Carta, forbice e mateta, coloriamola un po' noi Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te Questa è Arte per te Arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te Per augurarvi buona Pasqua Felice Pasqua a tutti ragazzi Sono felicissima di essere qui a casa vostra Come ogni domenica di Pasqua io busso piano piano Entro e vi faccio gli auguri Questo è un video che passerò anche sulla pagina Facebook di Ombretta Perché tanto sempre io sono e sempre voi siete Quindi auguri, auguri a tutti di vero cuore Sappiate che siete sempre con me E sappiate che voi siete state in qualche maniera la mia Pasqua Il mio passaggio Il mio passaggio da fruitrice di internet a creatrice su internet Con la possibilità di avere l'onore di conoscere tantissime personalità creative Che arricchiscono ogni giorno, ogni istante la mia vita Auguri a tutti, vi voglio un gran bene Auguri alle vostre famiglie Mangiate tanto cioccolato per oggi e non vi preoccupate di nulla Anche domani E divertitevi perché la Pasqua è una festa gioiosa Io voglio fare gli auguri anche a chi non è cristiano Anche a chi non festeggia la Pasqua Anche a chi non mangia il cioccolato Perché per me questo è semplicemente uno spunto per fermarmi E dire Ok, siamo pronti a ricominciare un'altra parte dell'anno Con un passaggio d'animo faccio il punto della situazione Dove sono arrivata in questo momento E riabbraccio tutte le persone a cui voglio bene nella mia vita Quindi tra quelle ci sono anche tante persone non credenti Che voglio includere in questo grande abbraccio In questo grande bacio che vi mando Quindi auguri a tutti Buona Pasqua se la festeggiate E voglio bene a tutti voi Di cuore Divertitevi tutti Un bacio a voi e alle vostre famiglie E da Ombretta e d'arte per te è tutto Buona Pasqua Ciao Spero di avervi fatto una bella sorpresa Ciao